Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui continuiamo la nostra panoramica su le API per gestire gli string in Java. In particolare parleremo di quelli che sono i collettori predefiniti. In particolare sono degli oggetti che possono essere utilizzati tramite il metodo collect per andare a raccogliere gli elementi che si trovano in uno string. I collettori predefiniti possono essere generati utilizzando dei metodi statici che si trovano in una classe che si chiama Collectors. Essendo dei metodi statici è molto comodo andare a utilizzare un import static di Java UtilStreamCollectors.asterisco in modo da poter menzionare direttamente questi metodi e di conseguenza andare a generare i collettori. Ad esempio io posso andare, dato uno stream di parole, a fare un CollectAveragingInt a cui passo un oggetto che estrae un intero, Length, e AveragingInt è uno dei metodi statici definiti dentro la classe Collector. Questo metodo fa parte di una serie di metodi che servono a sintetizzare alcune caratteristiche di uno stream e che vediamo riepilogati in questa tabella. In particolare vediamo counting che sostanzialmente va a estrarre il conteggio degli elementi, MaxBy o MinBy che permettono di andare a prendere il minimo o il massimo elemento in base a una caratteristica che viene specificata, che è sostanzialmente caratterizzata tramite un comparatore, Summing, Averaging e Summarizing che sono tre diversi metodi che sostanzialmente fanno fare delle operazioni di sintesi e vanno a generare interi Long o Double e quindi sono forniti in diverse varianti. Summarizing in particolare va a costruire degli oggetti che si chiamano Int Summary Statistics, Long Summary Statistics e Double Summary Statistics che sostanzialmente contengono un insieme di parametri statistici che sintetizzano dei dati. Abbiamo poi altri collettori che permettono di andare ad accumulare all'interno di collezioni. In particolare abbiamo ToList che va ad aggiungere all'interno di una lista, ToSet che aggiunge all'interno di un set, ToCollection che va ad aggiungere una collezione e questa collezione viene fornita tramite un supplier che viene passato al metodo. O Joining che sostanzialmente non fa altro che andare a prendere gli elementi della lista, convertirli in stringa e poi andare a concatenarli tramite un separatore ed eventualmente andando a mettere un elemento prefisso e uno postfisso che sono ovviamente tutti opzionali. In questo esempio possiamo vedere come utilizzare questi collettori che raggruppano e raccolgono all'interno di una collezione. Allora, qui abbiamo uno stream di stringhe, facciamo un filtro per lunghezza maggiore di 10, facciamo un'operazione di distinct andando a eliminare i duplicati, facciamo un'operazione di sorted andando a confrontare in base alla lunghezza inversa in modo che i primi elementi siano quelli che hanno la lunghezza più lunga quindi sia un ordinamento decrescente, facciamo un'operazione di limit a 3, quindi andiamo a prendere i primi 3 e facciamo un collect to list. Questa operazione sostanzialmente raccoglie all'interno di una lista le tre stringhe più lunghe, ovvero le tre parole più lunghe che erano presenti nello stream iniziale. Questo ovviamente è un esempio perché cosa succede se invece di avere tre posizioni che hanno tre lunghezze diverse se abbiamo più parole che hanno lunghezze analoghe, questo limit 3 ne va a prendere tre e dipende ovviamente da come viene fatto l'ordinamento in questo punto. All'interno di questi diversi accumulatori è ovvio che non c'è controllo sul tipo di insieme, sul tipo di lista che viene creato per cui se io voglio andare a accumulare all'interno di una lista di un certo tipo, di un insieme ad esempio ordinato dovrò andare a utilizzare un to collection. Esistono poi dei collettori un po' più complessi, in particolare il grouping by e il partition by. Il grouping by sostanzialmente riceve come parametro una funzione che è un classificatore, ovvero una funzione che è in grado di estrarre dagli elementi quella che sarà poi la chiave con cui andare a suddividere gli elementi del nostro stream. Il partition by è analogo dove in questo caso la mappa che viene creata è una mappa la cui chiave è booleana e quindi divide gli elementi del nostro stream in due grosse partizioni. Quindi se volete il partition by è un caso particolare del grouping by dove la chiave è una chiave booleana. Come funziona il grouping by? Beh, sostanzialmente se vogliamo andare a raggruppare i nostri elementi in base a una chiave, ad esempio vogliamo andare a ordinare a raggruppare delle stringhe in base alla loro lunghezza, quello che possiamo fare è partire da uno stream di stringhe, eliminare i duplicati e fare un collect grouping by dove la chiave che verrà utilizzata per fare il raggruppamento è lente. Come funziona in pratica il nostro grouping by? Il grouping by parte da uno stream di elementi, nel nostro caso immaginiamo che siano delle stringhe, a ogni elemento viene applicato un classificatore e il classificatore sostanzialmente va a definire quella che sarà la chiave e per ogni chiave viene creato un sottostream. Per cui al secondo elemento verrà applicato il classificatore, verrà identificata una chiave che può essere uguale oppure, come nel caso, diversa rispetto alla precedente, quindi verrà avviato un nuovo stream in cui viene accodato il nuovo elemento. Procedendo, il prossimo elemento andrà a finire sulla prima chiave e quindi sostanzialmente avremo un nuovo elemento nello stream associato alla chiave numero 1 e procedendo troveremo un altro stream con chiave 2 che associeremo alla stessa chiave e quindi andremo ad accodare all'elemento che era precedente. Quindi, in pratica, noi abbiamo due stream che vengono messi di conseguenza. A valle di questi stream c'è quello che si chiama un collettore di downstream che, nel caso di default, è un toolist. Quindi, il grouping by suddivide in base alla chiave e in definita la classificatore, identifica una serie di stream paralleli, uno per ogni valore della chiave e, alla fine, applica a ciascuno di questi stream un collettore di downstream che, normalmente, se non diciamo nulla, è automaticamente il toolist. Quindi verrà creata una lista per ognuno di questi stream. Alla fine, una volta che abbiamo tutte queste liste, ognuna verrà inserita all'interno di una mappa dove la chiave è la chiave che corrisponde al sottostream raggruppato in quella lista. È ovvio che la versione di base del grouping by è molto semplice. Esiste una versione un po' più complessa che è quella che vediamo qui in cui il grouping by, oltre ad avere la nostra funzione che è il classificatore, ovvero l'elemento che permette di andare a estrarre la chiave e con cui andare a definire i vari stream e poi con cui andare a inserire nella mappa, è possibile andare a costruire anche l'oggetto mappa in cui andranno messi gli elementi. Quindi nel caso specifico qui abbiamo una tree map il cui ordinamento è un reverse order e poi abbiamo il downstream che in questo caso è un toolist ma potrebbe essere un qualunque altro collettore. Quindi in questo caso specifico avremo un ordinamento discendente. Se torniamo al nostro esempio di prima, quindi quello di andare a identificare i primi tre, le prime tre stringhe per lunghezza, la soluzione che avevamo visto qua sostanzialmente peccava di un limite, ovvero aveva un numero di elementi che era uguale a tre e quindi sostanzialmente avrebbe scartato eventuali pari merito. Ecco, una possibile soluzione utilizzando il grouping by consiste nell'andare innanzitutto a raggruppare in base a la lunghezza, includere in una mappa ordinata, quindi una sorted map, che ha un ordinamento inverso in modo che i primi tre elementi siano quelli con la lunghezza maggiore. Ovviamente questo cosa farà? Andrà ad aggiungere alle tre chiavi più alte non un singolo elemento ma una lista di elementi. A questo punto, se noi vogliamo andare a estrarre questi, quello che possiamo fare è quello di andare a utilizzare il metodo EntrySet chiamato sulla mappa che viene prodotta dal metodo Collect, fare uno stream su questo EntrySet, limitare a tre, quindi andare a prendere le prime tre chiavi della nostra mappa ordinata e poi fare un'operazione di flat map. La flat map che cosa fa? Prende gli elementi che sono presenti nelle tre liste associate alle tre chiavi che corrispondono alle tre lunghezze più grandi e va a costruire altrettanti stream che vengono concatenati uno dopo l'altro e alla fine andiamo a prendere quindi tutte le stringhe che compaiono nelle liste corrispondenti ai tre numeri più alti e andiamo a raccoglierli dentro una lista con un CollectToList. Ovviamente quando io devo fare operazioni complicate è possibile che io debba andare a combinare più collettori per questo ci sono un paio di metodi che possono essere applicati ai collettori e che permettono di andare a fare delle operazioni aggiuntive per cui ad esempio c'è un metodo che si chiama CollectedAndThen sono metodi default e quindi possono essere applicati al collettore quindi CollectedAndThen ha come parametri un collettore che quindi può fare le operazioni potrebbe essere un grouping by, potrebbe essere un tool list e poi c'è un and then che quindi va a prendere il risultato dell'operazione di collezione e lo trasforma ulteriormente e quindi fa un mapping tra il risultato della collezione e un altro risultato che è quello che noi vogliamo ottenere. Oppure altra operazione è quella di mapping in cui invece di andare a prendere il risultato del collettore e trasformarlo questo fa un'operazione di map degli elementi che entrano nel collettore li trasforma, li passa al collettore e poi il risultato è quello prodotto dal collettore non sugli elementi originali dello stream ma sugli elementi trasformati da questo map. Per cui volendo andare a prendere l'esempio di prima in cui costruisco una mappa e poi vado a prendere lo stream dell'entry set quello che potrei fare è di andare a fare un CollectingAndThen dove vado a prendere innanzitutto un'operazione di collezione faccio qui il grouping by in base alla lunghezza della stringa all'interno di una mappa ordinata inversamente e i cui elementi sono le liste e poi vado a prendere il risultato che sarà una mappa faccio m freccia m reset stream quindi vado a prendere lo stream degli elementi che sono contenuti nella mappa limito i primi tre faccio un'operazione di flat map e faccio alla fine un Collect to List quindi il risultato è prima applico il collettore e poi sul risultato faccio questa operazione oltre ai collettori predefiniti che sostanzialmente rispondono a buona parte delle esigenze che noi possiamo avere nell'andare a fare operazioni di raccolta di elementi in uno stream in contenitori contenitori semplici o contenitori associativi è possibile andare a definire dei collettori speciali questo può essere fatto andando a sfruttare quella che è l'interfaccia Collector l'interfaccia Collector è abbastanza complessa e prevede una serie di metodi un metodo supplier che sostanzialmente è il metodo che va a costruire l'oggetto in cui andremo ad accumulare un metodo accumulator che è quello che fa l'operazione va a creare un buy consumer che fa l'operazione di aggiungere gli elementi al contenitore il combine che è quello che fa l'operazione di andare a combinare più contenitori nel caso in cui si debba fare un'operazione di fusione di più contenitori se ho stream paralleli un finisher che è quello che va a prendere il contenitore e lo trasforma ulteriormente come operazione finale e poi un metodo che restituisce delle caratteristiche che sono quelle che servono poi per andare a capire e quindi a guidare le operazioni di aggregazione e di inserimento all'interno del contenitore come funziona il collecting in particolare? allora immaginiamo di avere il nostro elenco di elementi che scorrono nello stream la prima operazione che viene fatta è utilizzare il supply per andare a costruire quello che è uno storage ovvero il contenitore in cui andrò ad accumulare gli elementi dopodiché man mano che ho gli elementi andrò a chiamare l'accumulate che man mano andrà ad aggiungere gli elementi nel nostro contenitore andrà a creare gli elementi all'interno di una mappa o quello che ritenete più sensato a questo punto ho fatto l'accumulazione se immaginiamo di avere più stream paralleli è possibile che arrivi un altro storage da uno stream parallelo e quindi viene chiamato un'operazione di combine per andare a combinare i due contenitori risultati dall'accumulazione dalla collezione dei due stream paralleli e infine andrò a chiamare un'operazione di finish che prende lo storage e produce quello che è un risultato quello che posso fare per andare a costruire dei nuovi collettori ad hoc è di utilizzare il metodo of che è definito all'interno dell'interfaccia collector e quindi scrivere collector of e passare il supplier l'accumulator il combiner il finisher e le caratteristiche per cui ad esempio io se voglio avere un collector che raccoglie delle stringhe quindi tipo di elementi all'interno di una lista di stringhe e restituisce una lista di stringhe quindi sostanzialmente non fa nessuna operazione di finisher andrò a definire un supplier ovvero l'oggetto funzionale che costruisce l'oggetto quindi in questo caso andremo a fare un array list new andremo a definire l'accumulator ovvero l'oggetto funzionale che fa l'operazione di aggiunta all'interno del contenitore andremo a fare un combiner che in questo caso che cosa fa dati due contenitori che saranno due list e fa a.addAllB quindi aggiunge tutti gli elementi di B all'interno di A e poi restituisce A qui non è messo nessun finisher quindi sostanzialmente prendiamo il risultato che è quello costruito da questo supplier e sostanzialmente lo restituiamo senza fare nessuna operazione ulteriore quindi volendo applicare il nostro collettore cosa succede? abbiamo la lista di elementi abbiamo il supplier che va a creare la release che inizialmente è vuota man mano che andiamo a chiamare l'accumulatore cosa facciamo? abbiamo l'accumulatore che sostanzialmente prende l'elemento e lo aggiunge al lo aggiunge al nostro contenitore a questo punto il prossimo elemento verrà aggiunto quindi il nostro contenitore conterrà tre elementi io l'ho disegnato tre volte ma in realtà è esattamente sempre lo stesso oggetto array list in cui vado ad accumulare nuovi elementi ne aggiungo un altro che farà l'operazione di add ne aggiungerà il nuovo elemento e via di questo passo aggiungendo tutti gli elementi che arrivano all'interno del nostro contenitore il risultato non essendoci alcun finisher e non essendo uno string parallelo è quello che verrà preso e dato come risultato dell'operazione di collezione abbiamo detto che in questo caso non è presente il finisher l'altro elemento che non è presente rispetto alla sintassi che abbiamo definito prima è quello che definisce le caratteristiche di un elemento quindi quali sono le possibili caratteristiche beh sostanzialmente nel metodo ovvio posso andare ad elencare diverse caratteristiche una possibile caratteristica è identity finish ovvero vado a dire che il finisher è un identity function che sostanzialmente prende il contenitore e lo restituisce tale quale un'altra possibilità è quello di dire che il contenitore è concurrent vuol dire che io posso andare a chiamare da due thread contemporanei l'operazione di accumulazione il metodo scusate la caratteristica Nordred invece dice che sostanzialmente non è rilevante l'ordine con cui vado ad aggiungere gli elementi ovviamente questo dipende dal tipo di contenitore in cui vado ad accumulare i miei elementi le caratteristiche possono essere utilizzate per andare a ottimizzare effettivamente come funziona il collettore per cui ad esempio se sia la caratteristica concurrent che è la caratteristica a Nordred sono specificate e io ho uno stream parallelo sostanzialmente il metodo di accumulazione può essere invocato da più thread paralleli e praticamente a questo punto il combiner non viene utilizzato perché invece di andare ad accumulare separatamente in diversi accumulatori e poi combinare man mano se dico che è unordered ed è concurrent allora do la possibilità al codice che gestisce questi API di fare un'operazione molto più veloce ovvero chiamare in maniera concorrente l'accumulatore che quindi aggiunge sempre e comunque allo stesso contenitore senza necessità di doverlo combinare poi successivamente riepilogando gli stream rappresentano un meccanismo molto potente per andare a esprimere una serie di elaborazioni fatte in sequenza uno dopo l'altro su quello che è uno stream una sequenza di elementi le operazioni possono essere ottimizzate in maniera significativa ed eseguite in parallelo e possono essere soprattutto espresse con una notazione funzionale quindi è estremamente compatta ed è decisamente più leggibile rispetto a una notazione imperativa in cui io devo andare esplicitamente a mettere i cicli di elaborazione e dove non posso andare ad annidare una chiamata dopo l'altra quindi ho una sintassi molto più flessibile molto più leggibile che nasconde tanti dettagli che vengono poi sfruttati in fase di ottimizzazione delle operazioni di ottimizzazione